Don't eat the world, you do it for you Pensavo per un attimo che la compagni, vabbè, il token è buono lo stesso Ma ora ragazzi, andiamo subito con i pacchetti promo Iniziamo col pacchetto oro premium maxi Dai, dai, 24 oggetti, 7 rari Su, 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 su Nooo, pensavo per un attimo che era noier Invece è trap Andiamo col pacchetto mega ragazzi 30 oggetti, 26 euro, 18 rari Questo è un bel pacchettone, su, su, su Non ci deludere un bel aimot, ma dai, dai Falcao, transfer tra l'altro Ciceri Ternandez, Filipe Luiz, Zabaleta, Kakà, Fernando E' un bel po' di roba eh Qui dai, possiamo fare la sculata Qui possiamo sculare Mira quando? Nooo Benaglio Ci rimane l'ultimo pacchetti ragazzi 12 oggetti, tutti oro, tutti rari Dai, dai Dai, dai, non ci deludere, non ci deludere Come on yee, come on yee Bene che se il video finisce qua Ma prima voglio lasciarvi una breve clip Della sculata che mi ha fatto fare Tutti quei crediti che vedete lì E molti già ne ho consumati Quindi vi lascio la clip E poi ci salutiamo Oh, oh, Kevin De Bruy 92 Kevin De Bruy 92 Dai, 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 dai E ragazzi, incredibile ma vero Trovo Kevin De Bruy 92 Quinti S Con Tatino, Zelo e Fius Ragazzi, fatemi sentire Grande, Tony Sei sculato Ciao, campioni Madonna, quanto vale Kevin De Bruy 2 milioni e mezzo di linch Ok Ah, ok 400 nulla Da Tony Dove è tutto Come sempre Iscriviti se non sei iscritto Al prossimo video Ciao belli A presto 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 A presto